Ciao, siamo Berne Farina e oggi vi portiamo a fare un'avventura in una delle gole più inaccessibili della Valle d'Aosta. Andiamo! Bene, oltre ad essere pescatore sono anche guida alpina, quindi prima di tutto la sicurezza. Oggi abbiamo portato con noi la corda, un'imbragatura, un discensore per effettuare una calata di una cinquantina di metri che ci porterà in fondo le gole. Quattro secondi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!